Non ci sono soltanto le valanghe a rendere difficile la vita di chi vive e lavora in montagna. La recente emergenza neve ha infatti contribuito ad evidenziare i tanti disagi di cui la montagna soffre anche quando non si verificano eventi così eclatanti e pericolosi. Proprio in questo momento che abbiamo così tanti deputati e senatori a Roma, proprio in questo momento che abbiamo anche dei consiglieri bergamaschi in regione, forse bisogna affrontare bene qual è il vero valore della montagna, dire che cos'è la montagna. È inutile dire che la montagna è 600, 500, 600, 800 metri. Questi sono solo numeri, sono solo motivi per scrivere su delle carte. I sindaci dell'Alta Valle Seriana stanno perciò muovendosi all'unisono per sollecitare ai politici e agli amministratori un'attenzione che non si limiti alle situazioni sporadiche di emergenza, ma che si faccia carico anche dei problemi quotidiani delle popolazioni dei piccoli paesi in quota. Anni fa, per esempio, sul riscaldamento veniva data una rifusione sulla bolletta del gas e del gasolio. Oggi non c'è più quella legge lì, ma voi immaginate uno che abita a Lizzola, che abita a Valgoglio, abita agli spiazzi di Gromo, abita in paesi piccoli, dove deve accendere il riscaldamento nel mese di ottobre e deve spegnere nel mese di maggio. E poi ci sono anche altre cose da affrontare una con l'altra, perché dall'aspetto sociale alla costruzione della casa. Cioè uno che costruisce la casa a Valbondione o a Lizzola deve spendere molto di più che costruire una casa in città, non c'è niente da fare e che aiuti gli diamo. Grazie a tutti.